Fighetti, volete anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella e mi raccomando di dare un like a questo video e nei commenti un commento Bezi fighetti, questa X, sono tornato in questo nuovo video perché oggi voglio parlare di una season 7 e di altre cose che conterrà la season 7 su Fortnite avevo già fatto un video a riguardo ma non ho spiegato molte altre cose che vorrei parlarvi oggi in questo video quindi oggi vi dirò altre cose della season 7, non le stesse cose l'altra volta ma altre cose comunque per iniziare il mio video vi lascio un bel like, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e attivate la campanella al mio canale se no non vedrete i miei prossimi video quindi vi perderete tutte le altre notizie che usciranno su Fortnite e sta cosa qua non va bene se no poi veramente ragazzi siete fottuti perché i vostri amici lo sanno e voi non lo sapete quindi ragazzi attivate tutti la campanellina e mi raccomando ragazzi iniziamo subito con il videozzo tutti sappiamo quanto è bello quando iniziano le nuove stagioni su Fortnite è veramente molto molto bello quando le stagioni iniziano cioè proprio il giorno prima che iniziano tu stai lì aspettare e dici domani esce la season 7 mamma mia raga sto veramente raga quanto raga oh quante emozioni raga è lì quel momento veramente bellissimo poi invece quando aggiorni Fortnite e vedi che è uscita la season 7 anche lì veramente è una cosa bellissima perché tu tranquillo arrivi da scuola apri la play e praticamente c'è l'aggiornamento di Fortnite della season 7 raga quanto è bello quel momento da 1 a 10? troppo vabbè raga allora già che ci siamo vi parlerò anche di altre cose che non c'entrano con questo video però comunque parlerò di più delle cose che c'entrano con questo video quindi anche la neve che ho già parlato nel scorso video ma la Epic ha annunciato che arriverà la neve come l'ha annunciato la Epic che arriverà la neve come con questa cosa qua che state vedendo adesso nell'immagine che vi sto mostrando nel video raga così la Epic ha annunciato che arriverà la neve poi con cosa anche con la tempesta di neve che si sta dirigendo verso la mappa di Fortnite per chi non la conoscesse raga praticamente se tu voi guardate a sud ovest penso da laboratorio della Trelina a sud ovest cioè davanti a voi vedete una tempesta di neve e di nuvole che sta arrivando sulla battaglia reale non sulla battaglia reale ma sulla mappa di Fortnite quindi raga questo è un altro mistero se vuoi dire un altro indizio che ci dà la Epic per dirci che sta arrivando la neve su Fortnite raga quindi io avevo ragione raga la neve arriverà su Fortnite raga siamo tutti contenti perché da quant'è che la aspettiamo? da quant'è che la aspettiamo? un anno? due? tre anni che aspettiamo la neve raga? noi la vogliamo noi la vogliamo come hanno messo il tempo a clima di Halloween devono mettere anche il tempo a clima di Natale perché sennò questa cosa non va bene cioè io mi incazzo che la spacco tutte le cose parliamo anche un po' delle armi che arriveranno a Natale con il giornamento di Natale anche su Salva al Mondo perché queste armi usciranno sia su Salva al Mondo che su battaglia reale perché anche per chi non ha Salva al Mondo dovete sapere che su Salva al Mondo c'era la roba di Natale l'anno scorso c'era anche la neve e c'erano anche le armi proprio fatte per Natale tipo con le decorazioni con le luci proprio le armi con le decorazioni per questo sto dicendo che arriveranno anche queste armi qua su battaglia reale e su Salva al Mondo quindi ricatenetevi pronti perché nel pass stagione 7 ci sarà di tutto quindi preparatevi a tutto a tutte le skin di Natale a Babbo Natale a tutte perché l'ultima skin del pass sarà sicuramente Babbo Natale per chi continua a chiedersi ma Sykes quando arriverà l'aggiornamento di Natale? Sykes ma quando arrivano le skin di Natale? Sykes ma quando... ragazzi le skin di Natale con l'aggiornamento di Natale dovrebbero arrivare con la season 7 quindi in teoria il giorno preciso del 6 dicembre quindi ragazzi puntatevi il calendario sul 6 di dicembre perché il 6 di dicembre arriverà la stagione 7 e quindi anche in teoria l'aggiornamento di Natale quindi ragazzi puntatevi tutti quanti la sveglia sul 6 dicembre 2018 perché ragazzi avremo delle belle cose e poi ragazzi uscirà anche Salva al Mondo gratis perché come è stato detto da Epic prima del 2019 quindi tutto l'anno 2018 quindi noi abbiamo aspettato tutto l'anno dicevano che doveva uscire a gennaio a maggio, aprile, giugno, non è uscito quindi uscirà per forza prima del gennaio 2019 perché è ovvio cioè è ovviamente ovvio questa cosa poi tornerà anche l'autobus di Natale di Fortnite come avevo già detto nello scorso video ma per chi non l'avrebbe visto guardatelo tornerà questo autobus meraviglioso con la musichetta non è così però vabbè noi imitiamo quel nostro modo e nulla ragazzi speriamo nella neve però come hanno ci hanno dato degli indizi che arriverà la neve quindi possiamo pensare che la neve sia certa su Fortnite quindi ragazzi dobbiamo pensare che la neve arriverà per forza su Fortnite arrivano la stagione 7 quindi del tema Natale e altre cose che dobbiamo parlare è una cosa che veramente ragazzi mi avete detto in tantissimi che i regali, i regali, i regali, i regali si arriveranno con la stagione 7 di Fortnite io sono convintissimo che con la stagione 7 di Fortnite arriveranno i regali anche perché sono 5-6 mesi che sono lì quei regali e sono sempre stati inutilizzabili ragazzi quindi non ha sentito questa cosa quindi devono per forza farli arrivare con l'arrivo della stagione 7 su Fortnite perché veramente ragazzi io ho promesso che quando arriveranno i regali su Fortnite io regalerò una skin a uno di voi quindi ragazzi quelli che si iscrivono al canale attivano la campanella e lasciano un like ad ogni video ragazzi io l'ho promesso e lo prometterò sempre però ragazzi per vincere con questa skin dovete seguirmi su Instagram mi chiamo Sykes-tm perché su Instagram rilascerò il vincitore di questa skin e poi ragazzi vediamo anche questo lama che è il lama di Natale che arriverà a sostarlo al mondo e magari il lama potrebbe essere così quando lo vediamo in giro sapete quando trovi il lama potrebbe essere così poi beh queste skin qua che dovrebbero arrivare col tema Natale sicuramente ci sarà forse l'orso di Natale io ci spero visto che è uscito quello di Halloween dovrebbe esserci quello di Natale e ragazzi noi speriamo veramente in queste cose poi se non arrivano ci faremo una ragione però veramente ragazzi io voglio queste cose e penso che tutti quelli che stanno guardando questo video le vogliono scrivetene ragazzi qua sotto nei commenti se anche voi le volete spero di sì perché io le voglio quindi se io le voglio dovete volerle anche voi capito ragazzi questo è il concetto poi ragazzi una cosa che non c'entra col video mi avete scritto in tantissimi ragazzi che io non spiego come cambiare il nome nel scorso video che ho fatto ma io l'ho detto io l'ho detto di passare dal link in descrizione dal video in descrizione per vedere come cambiare il nome io ho detto che non lo spiegavo perché non sapevo spiegarlo non avevo i mezzi per spiegarlo quindi ragazzi ti passare in descrizione quindi raga non lamentatevi perché raga l'ho detto di passare da quel video quindi non dovete darmi le colpe a me perché l'avevo detto di passare da quel video e non prendo nessuna responsabilità di quello che potrebbe succedere alla vostra play perché comunque come ha detto il mio amico diabetico nel suo video se voi sbagliate qualche passaggio potrete sballare tutto e quindi mandare a fanculo la play quindi raga fate tutti i passaggi giusti perché se sbagliate qualcosa raga veramente siete fottuti quindi mi raccomando raga occhio e state attenti e comunque raga voi che state vedendo questa neve che sta cadendo non sono stupido perché la visuale di quando nevicherà potrebbe essere così quindi non sono stupido di come essere la neve proprio perché la visuale potrebbe essere così quindi non lamentatevi che c'è la neve perché se arriverà sarà così quindi raga tutti scialli quindi tutti tranquilli e se non vi piace questa neve dovete abituarvi perché poi a natale se ci sarà siete fottuti se non vi piace dovrà piacerevi per forza mi dispiace ma è così eh ok raga questo video si conclude qua spero che vi sia piaciuto e così lasciate un bel like iscrivete al canale e mi raccomando raga dovete seguirmi su instagram sykes-tm perché raga lì rilascio sempre sempre delle gift card per shoppare su fortnite mi raccomando quindi raga seguitemi tutti poi seguite anche tutti i membri del mio team sxtdemo, sxtcreepysky, sxtdiabetikoyt e sxtyesdaniel poi vabbè seguite anche la official page di sxt official clan mi raccomando raga seguitela tutti e vi ricordo che ogni due giorni ci sarà un nuovo video il prossimo video raga non ve lo spoiler però raga sarà qualcosa di assurdo e non lo so raga non devo più dirvi nulla quindi vi dico di seguirmi ancora su instagram sykes-tm ah raga ho dimenticato di dirvi una cosa ditemi voi nei commenti cosa vorreste sul mio canale ditemi voi e io cercherò di accontentarvi perché raga mi sono finito un po' le idee e quindi voglio portarvi qualcosa che decidete voi quindi non vi lamentate cioè decidete voi cosa volete nel canale e vi porterò quello che voi volete perché così non vi lamentate perché quando porto un contenuto nuovo mi dite non è bello questo contenuto sykes non portarlo più perché non è bello e allora raga ditemelo voi nei commenti cosa volete e io vi porterò sul canale ovviamente qualcosa che sia possibile non buggy jumping dalla torre di pisa perché sennò mi stacco la testa capito quindi raga ditemi qualcosa che ovviamente è possibile io cercherò di portarlo sul canale ovviamente e noi la raga noi ci becchiamo allo prossimo video bella fighe mi raccomando raga mille likes per un nuovo video bella raga bella raga bella a tutti raga bella 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 bella